Milano. La creazione di un'area pedonale continua che dal Duomo attraverso Corso Vittorio Emanuele e Piazza San Babila porta a Largo Augusto attraverso la riqualificazione di Piazza Santo Stefano e fino all'area pedonale dell'Università Statale tra Via Festa del Perdono e Largo Richini, riqualificando così un ambito storico a forte vocazione pedonale, è l'obiettivo del progetto di risistemazione delle aree oggi occupate dai cantieri della M4, che caratterizza Piazza San Babila e Largo Augusto e concede più spazio ai pedoni, al verde e alle biciclette oltre che alla connessione con il trasporto pubblico e i taxi. L'ampliamento dell'area pedonale di Piazza San Babila consente di collegare i due lati della piazza e di estendere l'area pedonale fino a Largo Toscanini, creando un percorso per pedoni lungo corso Europa, che mediante la creazione di una zona a traffico limitato sarà reso accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi di carico e scarico negli orari consentiti, integrandolo così con una nuova pista ciclabile.